ho provato a fare questa domanda agli miei amici su Facebook perchè ho visto che su Massimo lo scrive di torte con la zucca a mezzo di me ho fatto questa domanda come? si, si, tipistrei, torte con la zucca, risotti, coca cola, riso con burcola nessun problema adesso si parla di quello che ho fatto no, si, si allora ho fatto questa domanda tranquilla lo mangio a bomba mi piace da dire no, non lo hai fatto ma è mio se non mi trovo a stare a macchina allora una grande azienda, donna 10 mila euro ho fatto questa domanda ai miei amici su Facebook se voi foste l'amministrazione come li spendereste? su 32 commentano che nessuno, nessuno si trova nessuno che si è inventato un cartellone in forma città ma nessuno, cioè vuoi dire ma neanche volevo trovare nessuno, su 32 commenti nessuno hanno detto come ha detto Falco la rifaceneria per le scuole piuttosto che azioni sui sociali cioè abbiamo un sito che fa la pena il viewer che non si trova nulla su quel sito lì perchè io ho dei cittadini vi chiamo ma i numeri qua i cattoli chiaro abbiamo un sito che non funziona viene aggiornato molto scolaticamente non dà nessuna informazione su nulla oltretutto spesso e volentieri il server delle delibere non è accessibile non so se le prenderanno come PC gli altri fa il mio no probabilmente è una sorta voglio dire con un testo dei 10.000 che vi dona Coca-Cola fate un sito che è stratosperico e poi insomma neanche voler farlo insomma voi cioè su questo castellone cosa comunicate? a chi comunitare? a chi? a chi? a chi? a chi? ma a chi? a chi? a chi? a chi? a chi? ma ma voglio dire scelto perché è così è locale certo il sito non c'è 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 quello che oltre si qua qua c'è 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 scritto che affirma nel sindaco tu l'hai fatto in testa sostanzialmente alla Coca-Cola e tu dici anche insomma Coca-Cola ha dato i soldi perfetto grazie a Coca-Cola che ci ha dato i soldi metteremo questo cartellone con una bella scritta ti hai ripetuto più di una volta perché bisogna sempre ripetelo grazie alla Coca-Cola che ci ha dato questa cosa 10.000 euro non sono una cifra enorme ma non sono neanche niente insomma credo crediamo che insomma qualcosa di più utile per la cittadinanza possa essere fatto se voi volete comprare questo tabellone compresto il tabellone ti ripeto su 32 novaresi mi hanno risposto non c'è stato uno che si è inventato quindi compriamo cartelloni in forma città nessuno per la città per la città per la città